Benvenuti cari amici di nel cuore delle parole, eccoci un altro appuntamento con gli autori del territorio. Oggi davvero è un incontro speciale perché siamo con Mirella Loic, l'architetto Mirella Loic che come dal cognome tradisce ha una certa parentela con un grande giocatore di calcio del passato, Ezio Loic, grande del grande Torino, grande mezzala di quella squadra mitica, gli cibili che proprio 70 anni fa persero tutti quanti la vita nel famoso incidente di Superga. Dopo tanti anni la figlia, Mirella Loic, l'architetto, ha deciso di raccontare la storia di suo padre e la storia del rapporto di lei con suo padre e di un padre che è venuto a mancare troppo presto, come fu per un'intera generazione di bambini e diciamo pure anche per un'intera generazione di italiani che fu orfana di quella squadra incredibile. Con noi abbiamo anche il marito, il professor Ricorrado Gavinelli, che ha curato magnificamente la parte iconografica del libro. Il libro abbiamo detto, forse non l'abbiamo anche detto, mio papà Ezio Loic, che è in presentazione a Torino, al Salone del Libro di Torino, appunto, all'Ingotto, esattamente lunedì 13 maggio alle ore 17. Allora, architetto Loic, siamo qui a parlare di suo padre, del libro e come ho già detto prima, a 70 anni a distanza da Superga, soltanto oggi lei racconta pubblicamente, naturalmente, un po' la storia di suo padre, profugo dell'Istria e di lei che ha perso un genitore in tenerissima età. Ecco, la prima domanda che mi viene naturalmente è come mai ha atteso così tanti anni? Ho atteso, penso di proposito tutti questi anni, il primo racconto è stato fatto quando avevo 40 anni, è stato un momento, un progetto che ho pensato in un momento particolare della mia vita, posso anche dirlo, io ho abitato vicino a Milano, vicino all'aeroporto di Linate e mentre le persone del quartiere contestavano questi rumori di atterraggio e decollo, ecco io invece avevo collegato già da bambina la non paura del volo, forse per un fatto psicologico e quindi questo rumore, contrariamente agli altri, mi accompagnava ed è stato il momento principale, anzi proprio l'inizio del primo racconto che poi tra l'altro non ho voluto inserire in questo volume, improvvisamente ho deciso di cambiare idea, ma l'idea è venuta proprio da questo rumore di questi aerei che non mi hanno mai dato un senso di paura e tanto meno di tristezza e quindi il libro ha avuto un inizio, un inizio che non c'è, perché appunto abbiamo detto che questo racconto non c'è, un inizio però piacevole per me, devo dire, proprio per questa condizione psicologica che io ho avuto. Al contrario, al contrario, qualcuno avrebbe dovuto invece temere il rumor dell'aereo. Ecco, lei aveva circa tre anni quando accadde l'evento e naturalmente poi le cose sono andate così, una vita appunto senza un padre, senza un padre personale, però suo padre era un personaggio pubblico prima e dopo diventa un mito. Com'è stato vivere, quando poi ho avuto coscienza naturalmente crescendo, crescere con un padre che non c'è ma che c'è per tutti, perché è un mito? Guardi, quando il papà è mancato io di anni ne avevo tre e mezzo, quindi sei mesi in più di tre influiscono nella vita di un bambino. Io immediatamente non mi sono resa conto della figura importante di mio padre, mi sono resa conto che mi mancava mio padre, quello sì perché era una figura nella sua presenza anche sportiva in famiglia, perché noi abitavamo in una casa con giardino e io ricordo molto bene che nelle belle giornate papà faceva degli esercizi a torso nudo, tant'è vero che io lo volevo imitare e da questo punto di vista anche da piccola ho avuto una certa passione per la ginnastica. Non è proseguita poi per quanto riguardasse il calcio, ma per la ginnastica devo dire sì, mi piaceva fare tutta una serie di esercizi che vedevo che lui faceva di flessioni e cose del genere. Che per lui era allenamento, no? Era allenamento... Sì, probabilmente ripeteva questi allenamenti... Allora hanno una palestra in casa... Esatto, allora non c'era, si adattavano ad uno spazio libero appunto... Certo, i fisici c'erano perché a vedere le foto del grande Torino e in particolare le foto di Ezio Eloi che avevano dei fisici scultori, diciamo che da statue greche devo dire, no? Sì, ecco, su quello non mi sono soffermata su questa definizione, però penso che senz'altro forse c'era anche un aspetto, dovrei dire, più naturale di quello che c'è oggi. Certo, certo. Io sono abbastanza critica verso i tatuaggi. Io ritengo che il corpo di una persona, qualunque esso sia, è una cosa da saper conservare bene, siccome ci è stato dato e quindi non ho una predilezione per questi decori. C'è una moda esagerata. Una moda esagerata, sì, sì. Ecco, parlando di immagini, parliamo del corpo del calciatore di oggi, allora facciamo un salto un attimo con il professor Gavinelli che ha curato nel libro la parte iconografica. Davvero il libro è ricchissimo di immagini, molte sono inedite, molte sono celebre perché sono foto celebri del tempo, della squadra, di Ezio Loic e della storia, perché comunque il grande Torino ha significato molto nello sport, ma è anche stato importante perché era in un periodo particolare della nostra storia, il periodo del dopoguerra, della ricostruzione, di un nuovo ottimismo. Quindi queste immagini sanno davvero di storia, non solamente del calcio, ma dell'Italia e del mondo. Ecco, com'è stato lavorare su questo apparato iconografico eccezionale? Beh, diciamo che è stato innanzitutto, lasciamo perdere che fosse faticoso, ma è stato effettivamente molto divertente. Poi però devo premettere una cosa che va a vantaggio appunto dell'editore, il quale non ha discusso molto sulla possibilità di ridurre oppure no e ha capito effettivamente l'importanza delle immagini che accompagnano un testo, perché un testo di racconti come quello di Mirella correva il rischio appunto di non avere un supporto che fosse soltanto quello delle parole e quindi noi ci siamo appunto affaticati insieme per poter selezionare una serie di immagini, ma anche selezionarle in modo che fossero idonee a quanto Mirella scriveva praticamente nei suoi racconti. Posso fare soltanto un piccolo esempio, per esempio quando si parla dei ragazzini che giocano a pallone e non avevamo foto di Ezio Loi che giocava a pallone, quindi ci siamo basati su importanti repertori, quello di Carlin che con i ragazzini che danno calci ai libri di scuola per poter andare a divertirsi sul campo di calcio, oppure delle importanti immagini come quella dell'Argentino Rauta che è uno dei grandi fotografi sportivi. Del nostro tempo. Ecco, l'aggancio che mi ha dato il professor Gavinelli per tornare un attimo alla figura di Ezio Loi che è quella dei bambini che giocano a calcio come giocatore. Ecco, il giocatore del Torino, rispetto a quelli che oggi sono i grandi campioni che vivono un po' lontane dalla gente, vivono nelle ville, vivono nei parchi, vivono... invece il giocatore del Torino vivevano in città e tu incontravi Mazzola, Loic, Maroso, Gabetto, Ballarin, Bagigalupo, li incontravi in via Roma, li incontravi in via Po, li incontravi al loro caffè perché Mossolo aveva un caffè, sul tram li incontravi, quindi avevi il mito che era già un mito prima di Superga a portata di mano e come racconta in un capitolo bellissimo l'architetto Loic, i bambini del palazzo dove abitavano loro, aspettavano, sapevano che allora arrivava Loic e lui era disposto a giocare con loro e giocavano a calcio con Ezio e Loic, una partita che tutti avevano giocato nel cortile, sulla strada, no? Così è davvero, lei se lo ricorda bene questo fatto. Sì, sì, questo è un fatto che ricordo molto bene, anche perché essendo figlia unica non avevo fratellini con cui giocare. Questo è un fatto importante, questa è una cosa che forse è la più importante che si è impressa nella mia memoria, l'attesa di mio padre sul cancello di casa, un passo carraio che metteva appunto in un percorso ghiaioso inizialmente per poi avere un'ultima parte invece in cemento. Su questo cancello io stavo sola, bambina e dalla parte opposta cominciavano ad arrivare ragazzini, tutti bambini, maschietti naturalmente e per me era divertente trovarmi in compagnia di questi bambini, non trovarmi più sola all'interno di questo giardino, di questa casa dove sì, potevo scorrazzare però da sola, mentre invece anche se non giocavo a pallone con loro, devo dire ricordo proprio questo piacere di questo incontro. Vorrei aggiungerle ancora una cosa che forse prima avevo divagato, la figura del mito di mio padre invece ho cominciato a trovarla molto tardi nel tempo. Inizialmente mio padre è stato un giocatore importante ma non usciva da certi schemi che sono diventati poi dei miti con il passare del tempo. D'altronde la storia in genere lo dice anche per altri personaggi che nel tempo la figura si enfatizza di più e poi i ricordi si accumulano, si ammassano proprio anche nel percorso storico e quindi ho ritrovato la figura di mio padre recentemente. prima per me era un papà che era stato un bravo sportivo, in questo caso un bravo giocatore e con il passare proprio del tempo questa figura è diventata più che per me per la gente. Per me è rimasto il bravo giocatore, un papà secondo quel che ricordo e che mi hanno ricordato in famiglia allegro. Mio padre poi era nato in un ambiente povero, in una condizione difficile storicamente anche e quindi era una persona che si era, come succede facilmente, a persone che non posseggono delle grandi possibilità, aveva un grande spirito di adattamento, tipico anche delle figure, delle persone che appartengono a delle condizioni anche storico-politiche difficili. Certo, ci ricordiamo appunto che eri istriano nel momento in cui l'Istria fu eva... Mio padre non era profugo perché era già stato chiamato qui a lavorare, diciamo, dal suo lavoro da professionista ma di giocatore, però tutta la famiglia e tutti i parenti erano rimasti, quindi lui si è preso carico non solo moralmente ma anche per quel che poteva economicamente. Nel dopoguerra. Sono nel dopoguerra, sì. E sempre questo spirito di adattabilità, forse io la ritengo quasi un mio privilegio, se ho ereditato questa condizione psicologica anche. Ecco, naturalmente abbiamo parlato di miti. C'è nel libro una fotografia, anzi ce ne sono due, in cui l'architetto Loic, che allora aveva tre anni e mezzo, un mese dopo la tragedia di Superga, bacia e baciata da Fausto Coppi. Perché Fausto Coppi arrivò a Torino quasi vincendo Giù l'Italia con la cronometro, Coppi storicamente era tifoso del Torino e probabilmente conosceva a Loic, anzi sicuramente lo conosceva e quindi quando arriva Torino in giro nel 49, vinto da Coppi e poi vince anche il tour, quell'anno lì, i fiori furono portati dalla più presente Mirella Loic che lo baciò e fu baciata e disse anche che era sporco e brutto. Esatto, beh immaginiamo un corridore all'arrivo e sudato e buzza anche devo dire. Anche Coppi nonostante il mito. Lei se lo ricorda ancora questo episodio? Sì, sì, lo ricordo benissimo. Io sono stata accompagnata da mia madre e da mio nonno materno con cui ero rimasta a vivere al motobelodromo e ricordo benissimo il momento in cui mio nonno mi ha alzato, c'è l'immagine della fotografia storica, ma non si vede un particolare nella fotografia che però, io ricordo benissimo, che l'ho proprio allontanato, l'ho proprio allontanato con le manine dicendogli che era brutto, nero e sporco. Ma Coppi aveva una figlia a sua volta e quindi ha pensato che era un atteggiamento di una bambina che non era abituata a trovarsi di fronte ad un corridore di ciclismo, soprattutto all'epoca perché penso che se oggi abbiamo lo smog allora la polvere era diversa, era una polvere che si sollevava sana e si sollevava decisamente più da terra. Le strade bianche. Ecco, allora mi domando, domando al professor Gavinelli, queste foto storiche di sua moglie che è baciata in questa maniera, con poco trasporto, con Fausto Coppi, era nella vostra famiglia e nell'archivio di famiglia oppure sono arrivate tramite giornali? Come avete trovato queste immagini? Tutte e due le cose, nel senso che soprattutto queste qui di Coppi famose sono state pubblicate in varie occasioni, anzi addirittura Mirella ci tiene a ricordare questo articolo sulla stampa in cui si dice l'amico di Mirella Loic che è proprio Fausto Coppi, però ha anche foto familiari perché la tradizione, diciamo così, del Torino rivolta ai familiari dei giocatori era di riprodurre e di poi dare alle famiglie le foto più interessanti, più importanti che erano state riprese e pubblicate. Tra l'altro nelle immagini sul grande Torino, tornando alla tragedia di Superga, c'è un'immagine che è una cartolina di allora in cui, piuttosto macabra però allora forse si usava, c'è Superga e c'è una freccia che indica dove è caduto l'aereo, che è qualcosa di un po' macabra, però allora forse, oggi siamo in tempi di immagini continue, per cui non c'è, allora no, allora la cartolina era importante, per cui la cartolina era un ricordo di Superga, un ricordo di Torino, ma anche un ricordo di grande Torino, quindi si mette tutti insieme a dire qui è caduto l'aereo, no? Era una cosa eccezionale, una morte di quel genere effettivamente era da rimarcare e senza volerlo non era per... Sì, non era qualcosa di punto di macrabo, di insultante verso la squadra, era proprio dire... Ma era proprio per dire guardate, è qui che è successo quella cosa tragica e che... Si, bisogna studiare quella cartolina qua, oggi sarebbe un po' strano, no? Perché oggi, ripeto, abbiamo immagini, non c'è bisogno, invece allora è chiaro che magari tu andavi a vedere il luogo, ma non avevi la macchia fotografica, allora magari nel 50, per dire, io mi ricordo mio zio in casa sua, al fino in su nella sua officina, aveva dei pezzi dell'aereo, perché la gente andava su, andava nei boschi e trovava, mio zio appunto studiava a Torino in quegli anni, e trovava dei pezzi dell'aereo, perché ancora adesso forse, probabilmente qualcuno c'è ancora, ecco. Ma di fatti, guardi, noi abbiamo scelto anche poi quell'altra immagine, dove si vede proprio l'aereo che sta per disintegrarsi, dove poi in sotto c'è Saluti da Superga, cioè anche queste cose sono molto strane, ma sono proprio tipiche di un senso popolare di aver vissuto questa condizione tremenda. Di questa tragedia nazionale. Senta, domando ancora una cosa, architetto Loic, lei si ricorda quel giorno? No, quel giorno non lo ricordo assolutamente. Io venivo accompagnata regolarmente durante la settimana a passare qualche pomeriggio a casa di una sorella di mio nonno. Mio nonno aveva due sorelle che vivono insieme, non si erano sposate. Una era il braccio, l'altra la mente. La mente lavorava, il braccio rimaneva a casa, faceva le calze, i golfini. Io regolarmente, durante la settimana, andavo volentieri a casa di questa mia zia Anita, Anita, per me abbreviato in Anita, perché sapeva sferruzzare cose piccole per una unica allora bambola che possedevo, anche bruttina, ma mi piaceva perché si poteva vestire facilmente. E quindi lei quel giorno lì era da loro? Quindi quel giorno, ricordo che mi hanno portato e quindi avendo continuato questa abitudine di frequentare questa mia zia, ho collegato poi dopo che quel giorno proprio per me era tolta dall'ambiente tragico della famiglia, quel giorno per me è stato un giorno come gli altri. Questa mia zia era una vecchietta, una persona molto equilibrata, per cui non ha fatto assolutamente notare nulla. E queste mie due zia, nei primi giorni, si sono occupate molto di me proprio per continuare a darmi quella abitudinarietà della mia vita quotidiana. Le faccio un'ultima domanda, anche perché il tempo purtroppo scorre inesorabile. E invece lei al funerale ha partecipato? Perché è il funerale famosissimo, purtroppo si sono anche delle immagini qua? No, 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 assolutamente. No, no, no. Mi hanno, da questo punto di vista, ringrazio, è una cosa che ho considerato molto nella mia vita, ringrazio la mia famiglia che mi ha protetto. Questo è quello che ho pensato da questa tragedia e quindi proprio, ripeto, con questa abitudine di accompagnarmi da questa mia zia, la quale era la più, diciamo, anche predisposta, perché usciva poco, a tenermi in casa e quindi questo momento non lo ricordo assolutamente. Lo ricordo, ricordo invece i momenti, ma penso successivi dopo una 15-20 giorni, quello sì me lo ricordo. E ho anche dei ricordi, devo dire, molto tristi, ne ho due o tre molto tristi, che non ho scritto, perché ho ritenuto che nel libro i miei ricordi avessero anche una scelta. E quindi i due o tre molto tristi ho preferito non descriverli, non lasciarli neanche ad altri, perché sono i momenti dei tristi dei bambini, forse a volte sono anche più commoventi, penso, di quelli degli adulti che sono stati già più abituati nell'arco della loro vita, avere una sequenza di sofferenze. Ahimè, la vita. Il tempo purtroppo è a nostra disposizione terminato. Voglio ricordare che il libro ha la presentazione di Sandro Mazzola, anche lui, come architoloiche, orfano di quella tragedia, perché suo padre era Valentino, erano i grandi amici, perché Valentino Mazzola e questi loiche furono comprati insieme dal Venezia nel 1942 da Ferruccio Novo, per cui furono l'ossatura definitiva del grande Torino, e la presentazione appunto di Sandro Mazzola, che era molto amico fin da bambino dell'architetto Loiche. Ringraziamo l'architetto Mirella Loiche, autrice del libro, ringraziamo Claudio Gavinelli, che ha curato magnificamente questa enorme massa di fotografie inerenti al Torino, a Ezio Loiche, alla sua vita anche precedente, nel senso a Istria, nell'Istria e poi anche nella vita di Torino e anche nelle immagini di quel tempo. Vi ringraziamo per essere stati con noi, intanto auguriamo un buon futuro su tutto e ringraziamo i nostri giocatori di essere stati con noi in questa puntata davvero molto speciale, dedicata a un grande giocatore, a una magnifica autrice, perché il libro è davvero bello, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.